Fondi a disposizione è un percorso condiviso per sostenere la ripartenza post-Covid. È la strategia del Comune di Piacenza messa in campo per il rilancio del settore culturale e delle associazioni che se ne occupano sul territorio. La cifra stanziata è di 210.000 euro e i fondi saranno messi a disposizione attraverso bandi di prossima pubblicazione. Ieri si è svolto anche un incontro tra le varie associazioni culturali e l'assessore Jonathan Papamarenghi che al termine ha spiegato che lo spirito che ha spinto a organizzare il dialogo vuole essere inclusivo e che l'intenzione è quella di rendere permanente il tavolo d'incontro aperto a tutti gli altri soggetti che riterranno di iscriversi all'albo comunale delle associazioni che operano nel settore culturale. Con questo incontro prende il via un percorso di confronto e di scambio di idee che dovrà avvicinare comune e realtà interessate in un percorso condiviso e costruttivo, spiega Papamarenghi, molto importante per la crescita della città, non solo proposte ma anche sostegno concreto a un settore fondamentale che se lasciato solo rischia di morire. Oltre alla richiesta di ulteriori location per le tante attività delle associazioni piacentine è emersa da parte di tutti la necessità di una nuova collaborazione, richiesta che rientra proprio nello spirito di questi incontri, puntualizza l'assessore. Un approccio per sostenere e aiutare le associazioni che intendono impegnarsi sul fronte della cultura dall'autunno 2020 fino a tutto il 2021, nel quale Palazzo Mercanti ha inserito appunto lo stanziamento di 200.000 euro. Il bando per accedere ai contributi stanziati, spiega l'assessore, sarà aperto a tutte le realtà culturali del territorio, a prescindere da chi ha partecipato o meno alla riunione, con l'impegno di accogliere la richiesta arrivata da tutti i soggetti, di impegnarsi per quanto possibile a dare continuità negli anni a tale tipi di bandi.